La distanza è appena 8 km ma lo scenario è tutto diverso. Francesco Bartolomeo e Jeronimo si arrivano quasi alle 2 dal Moria Refuge Camp. Vista dal porto di Mitilene sotto un bel sole, l'esbo si direbbe l'approdo ideale per uno spensierato turista, non per la paura e la disperazione dei profughi. Il programma dice qui incontro con cittadinanza e la comunità cattolica dell'isola, piccola come del resto tutta la chiesa cattolica in Grecia, con i suoi 200.000 fedeli circa, meno del 2% della popolazione. Sono ammirato, il Papa dice, dei cuori e porte tenuti aperti dai greci, parole affilate a dispetto del tono di voce pacato. Capisco le legittime, le definisce, preoccupazioni della gente e delle istituzioni in Grecia e nel resto d'Europa, ma sentirsi più sicuri innalzando recinti è un'illusione. Non bisogna mai dimenticare che i migranti, prima di essere numeri, sono persone, sono volti, nomi, sono storie. L'Europa è la patria dei diritti umani, che chiunque metapede in terra europea dovrebbe poterlo sperimentare. Però limitarsi a inseguire l'emergenza non basta, ci vuole pace dove il cancro della guerra ha portato morte e distruzione. Per questo bisogna contrastare con fermezza la proliferazione e il traffico delle armi e le loro trame spesso occulte. Infine Francesco invoca collaborazione senza stancarsi tra stati, organizzazioni internazionali, istituzioni umanitarie, anche al primo vertice umanitario mondiale di Istanbul a maggio, ma il pensiero più commosso è per i tanti che non ce l'hanno fatta. Hanno perso la vita in mare, vittime di viaggi disumani e sottoposti a langherie di villi a guzzini. A tutti loro, Ieronimos, Bartolomeo e Francesco dedicano ognuno una preghiera scritta di proprio pugno, poi si avvicinano al molo in silenzio per gettare tre corone di fiori tra le onde. Dopo tante parole, è questo l'omaggio più eloquente a tutti i migranti vittime di questo mare.